Una vasta area sottoposta a vincolo paesaggistico dove tra l'altro insistono alcune catacombe è stata sequestrata dalla polizia locale di Modica in contrada a Cala Marieri. Nel corso di un servizio predisposto dal comando è stata rilevata la presenza di mezzi meccanici in due diverse zone, con i quali si stavano eseguendo lavori di scavo. Il nucleo di polizia giudiziaria è intervenuto a questo punto per verificare l'esistenza di autorizzazioni, bloccando i lavori in corso. Esaminati gli atti è emerso che le due diverse imprese che si trovavano in attività erano in possesso di autorizzazioni da parte della sovraintendenza ai beni ambientali di Ragusa, ma che nei fatti stavano violando le prescrizioni in essa contenute. I lavori sono stati bloccati ed è stato quindi disposto un sopralluogo congiunto tra polizia locale e sovraintendenza. Sopralluogo che è stato compiuto alla presenza dell'architetto Giorgio Battaglia e del dirigente dei beni paesaggistici, il geometra Maria Ausiglia Ruta, funzionario direttivo della sovraintendenza, al termine del quale è stata sequestrata un'area di circa 400.000 m2. dello stesso proprietario, già che è stata accertata l'esecuzione di lavori di spietramento del terreno, sbancamento e scavo di roccia in difformità delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni e in assenza del nulla ossa della sovraintendenza e di concessione edilizia. L'autorizzazione dell'organo di tutela ambientale prevedeva lo spietramento superficiale e manuale dell'area autorizzata, senza l'utilizzo di mezzi cingolati. Sul posto invece erano presenti ruspe ed escavatori, in alcune zone erano stati eseguiti scavi oltre un metro di profondità della roccia. Alla luce di tutto questo è stato disposto il sequestro preventivo dell'area e sono stati deferiti alla procura della Repubblica di Ragusa quattro persone, di cui tre modicani. Sono un ottantenne proprietario dell'area, un sessantasettenne direttore dei lavori, un quarantunenne imprenditore nei confronti del quali sono stati ipotizzati in concorso reati paesaggistici urbanistici, mentre un ciclitano 61enne è stato deferito del reato urbanistico.